Il governo musumeci continua a dare linfa ai territori rurali con circa 33 milioni di euro ripartiti tra i gas siciliani. Si tratta delle risorse aggiuntive assegnate alla misura 19 del programma di sviluppo rurale della Sicilia, grazie alla proroga delle attività per le annualità 2021 e 2022. Lo dice l'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale della pesca mediterranea, Tony Scilla. Abbiamo voluto ripartire le risorse, dice Scilla, tenendo conto di alcuni criteri che valorizzano il lavoro svolto da ogni singolo galle. Infatti solo una piccola parte, pari a circa il 20%, è stata distribuita con i criteri storici del 2019, mentre la metà delle risorse ha tenuto conto della performance di ogni singolo galle basata sulle graduatorie approvate, sugli impegni emessi e sulla spesa pubblica erogata all'ulteriore quota pari al 20% circa, è stata assegnata a 10 progetti ritenuti di grande qualità per gli aspetti legati all'innovazione e alle ricadute sui territori di attuazione.